Nick balla Comunque c'è la sua inguardabile con qualcosa in testa Lo sapevo io lo sapevo se c'era scritto Lo so lo so anch'io ho pensato la stessa cosa Gil siamo io e te stasera Ciao Gil Siamo io e te a tenere in mano il team Lo sento bassissimo Anch'io Gil ti sento basso Ma siete saltati io non ho messo il seguito Mamma mia Stiamo per morire Eeeh Gil tranquillo Dove siete? Arriviamo subito Gil Mi ero dimenticato di perdere il seguito Nell'angolo dove puoi andare? Io cerco un veicolo e arrivo Dai non sono tanto lontano da voi Sono solo sceso in mezzo al nulla Allora vediamo se mi ricordo i tasti qua Allora con questo si correva si Mi ricordo i tasti Oh è un mese che non prendo il mouse Sono un mouse Nel culo Vediamo se mi ricordo come si fa Everybody We got a real gem Welcome to the space gem Yes ok Yes ok We got the space gem Alright alright Che cazzo vuoi audio? Non ci avrai nessuno lì Sei nel nulla No 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 mi sparano E allora crepa male Mi sparano dalla città dietro Infatti sto fuggendo in un Gruppo di capannotti qua davanti Hanno messo un sacco di nuove robe Di robe nuove C'è stato l'aggiornamento chef Io l'ho fatto Hanno messo tipo una pistola che spara laser Indegna Tipo quella di Call of Duty Poi a volte in giro trovi Se sei strainculato il jubbo al 4 Non chiedermi come e perché A livello 4 Poi c'è Ma niente C'è Sto prendendo per il culo cfc E ci casca gil Che ci sta già giocando tutti i giorni C'è incredibile Io sono senza Mai trovate Io sono senza parole Che cazzo so Ma come se non lo so Visto che ti ho guardato E' vero che vi vedevo in 100 175k Davvero Sì è 124 144 La risoluzione più bassa Se no non funzionava Cioè vedevi Geomag Non vedevi il gioco praticamente Sì 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 Giusto per bastare il tempo Non è che eravate No c'è il crossplay fra pc E fra console E il mio bellissimo coprifiamma Io sto andando a pushare Che voglio Voglio Geel Non mi sento per niente sicuro con voi Ok Grazie Niente Stiamo arrivando Serve altro Sto arrivando Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 1 a destra e 1 a sinistra mi hanno chiuso i due arrivo io a farli no no questi sono proprio io ho già abbandonato ciao signor corsini io ti vedo ancora qui non ho neanche una granata per uccidermi vado a farmi uccidere da quelli no no esci esci dai esci gil unisciti risparmia una vita anche se tanti ti abbasso uguale l'um ciao corsini vabbè tanto da 05 cosa passa a 04 riscatto due robe no che arrivi a 03 come me non vedo gil arrivo 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 ho preso 80 punti per questo batter passa adesso questa partita guarda che sexy gil se non fosse un pippottino di gil gli darei un bacio ah fammi partecipare a tutti partecipa a tutto c'è una roba che dà i premi giornalieri anche si 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 vado a partecipa a tutti ciao giacomo nicolo bella giuseppe no no per tutte le console paolo ed è anche gratis c'è anche per il mobile fammi mettere subito segui così non mi perdo questa è la mappa piccola hai trovato quella del vulcano? si si è per un vulcano io voglio vikendi rega aspetta che quella mi sa che non c'è ancora dove è discord qua? devo alzare g come sta la bestia marzia? e si per bestia intendo tuo figlio cosa fa la juve? perde 2 a 0 con la salernitana wow vada non ci credo si è candreva e piontek wow che squadrone mamma donna piatek piontek come cazzo lo volete pronunciare? piotek piantek 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 il pistolero guarda sono contento per la salernitana ma la salernitana gioca bene però da qua andrà cosa vuoi? e chi se ne fote? un figlio di merda ciao sebastiano si ma che vittoria ciao giovanni dai dai arriva la vittoria c'è lo scelto di pittorno abbiamo vinto quasi tutte le sere senza chef adesso non esageriamo guardate che ti ho pensato delle pitellate vostro no abbiamo fatto due o tre vittorie senza chef no due belle vittorie belle belle si si ho visto l'ultima sera che era pesce come c'era neanche a terra avate no abbiamo vinto su coso taegolino era mate che rosicava come un pazzo ho fatto otto io a dodici tu è stata bella cazzo non ci fai da mia casa? chef non c'è più niente di tu in questo gioco è inutile che cioè hai perso tutti i poteri che avevi guadagnato ti ho appena rubato il compensatore mi tra la sotto no no chef veramente che cazzo sparisci dai sparisci ho rubato un pezzo qua un pezzo l'altro ma non ho armi non ho armi qua non c'è niente non venire qua c'è un beric con i colpi anche io non ho elmo qua da me c'è uno scara anzi quasi quasi uso cosa ho trovato? WMP wow che culo WMP mi viene su mi lascia anche i colpi lascio io ho io ho passo da me bingo io ho il silenziatore mitra ho un silenziatore mitra e un esteso rapido mitra lo venite a prendere se no io mi prenderò la roba io sono qui no io là sotto ho lasciato un esteso rapido R ho preso i colpi l'hai preso su te Gil? no godo andiamo a lab qua davanti devo andare? a lab non ho l'elmo mi fa uccida sta fine eh ne abbiamo vinte tre c'è c'è gente c'è gente ok si però si aspettavate un secondo al compensatore mitra ha un sacco di roba questo che può servirvi sento passi ah è Gil ok avete una no a me serve una una bevanda raga ho mai fregato il caricatore ah ma fa culo oh tutto mio tutto mio tutto mio tutto mio per un attimo Gil è sembrato uno di quei bambini stupidi no tutto mio poveri bambini eh nei in effetti essere paragonati a Gil non deve essere bello UMP qua con colpi ho fingato tengo la ho raccolto un po' di colpi ci sono un sacco di colpi UMP mi tengo il Vector dai oh belli grazie per me qua sotto è aperto da me magari era quello lì vi serve un silenziatore R no no non ho la R però mi serve un M4 serve se lo trovate raga io ce l'ho te lo lascio io se mi lascio un ciocchino no vabbè eh lo scar ti lascio va vai tranquilli poi è pulito eh è tutto pulito guarda me guarda che non riesco a lasciarti M4 devi andare sull'arma e tener premuto tutto triangolo eh vai sull'arma è questo quello che vuoi guarda quello che ho fingato è M4 16 guarda ti ho lasciato giù lo scar avanzei avanzei ho un'arma da lungo anch'io io ho un UMP goal per tre ah ma wow gli devi sparare quel coso lì per far lasciar giù non troppo porco 2 c'è dentro di tutto regala di tutto mi sparo da dietro da dietro da dietro da dietro da dove siamo arrivati noi cazzi suoi cazzi suoi abbandonatelo eh ma andeva stato sono qua dietro la collina da sopra la collina alta vai a restare uno che va a restare non capisco dove cazzo sono uno è sulla collina l'altro dietro la città da dove siamo arrivati noi no no mi stanno prendendo mi stanno prendendo aspetta no raga dobbiamo spostarci prima di due lati da dietro io salgo io salgo ranko sopra le case io sono morto è lì dietro si sto curando sto provando a sull'ire per prendere la testa venite via da lì venite via da lì mi sparano anche da dietro eh sì siamo in mezzo io sto provando a fare questo qua sul retro avete una bevanda per caso zero 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 madonna ho giusto un medic sono pieno di gente io qua raga allora guardatemi i ping la sto lottando tranquillo tranquillo hai una bevanda per caso avvertato guarda che abbiamo gente che ci arriva da dietro eh ma andiamo di là raga c'è occhio perché li abbiamo sia lì che a Capaco è la città lì accanto guardate stanno attraversando stanno andando al punto giallo ho visto attraversare un altro io ho pochissima vita e non ho pure io ce le ho le cure raga dov'è che sono? davanti di te ho provato io cura ok si stanno noccando fra di loro ho vita piena però lasciami giù un medic qualcosa amici se puoi qua da me aspetta per anche mi curo un secondo mi curo che sono male se no questo è morto subito c'è altra gente però c'era uno vestito di bianco che l'ho visto faccio il medic sparano da dietro oh frate me grazie per la condivisione a me si è morto subito morto subito io non ho ancora sparato questo medic io se volete all'emm24 tutto fullato questo eh mi stanno prendendo mi stanno prendendo oh no mi chiamava distrutto raga ma fermo fermo non muoverti non piccare no 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 c'è qualcosa che non va sparano da 175 anche raga dobbiamo spostarci no proprio basta che stai dentro non ho più cura eh no mi ha preso qua guarda eh ma è la sì cioè dalla finestra ti prende sotto lo scollino proprio poi ti sei raccolto il mio giubbo al trarotto eh non è che il mio era messo meglio l'avete ma raga nessuno ha preso vabbè lo prendo io no no ma rai mi stavano distruggendo quando lì dalla cassa non so che mi stava sparando non posso muovere da qui che mi distruggono ma come cazzo faranno attraverso i muri dai ragazzi ma di cosa parliamo ma che cazzo ma un altro cheat sto qua dai no vabbè eh abbiamo sono più di uno non posso muovermi io ho sparato a uno che era girato di spalle e mi ha sparato un'altra c'è da restare cesa chef ce l'hai lì eh eh aspetta vieni cesa vieni qua dietro l'angolo aspetta in casa ok ok resta lì resta lì prova e qua femo hai bisogno anche di noi non dovrebbe vederci qua anch'io sono senza elmo eh anche io vengo appena rotto ok abbassati subito abbassati subito ma che c'è una terra pinga pinga eh ha scolinato li stanno pushando andiamo 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 adesso che li pushano veloci raga li vedete lì alla sinistra del ping giallo là sopra sono guardate sì 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 guarda in alto ma uno no no non sparargli chi è che ha sparato a me a loro eh chi è che ha sparato silenziato a me a loro a me a loro mi sto coprendo mi sto curando gli ho sparato io un colpo mi sto curando l'ho silenziato io ce n'è uno qua davanti raga ce n'è uno qua davanti raga capito quello davanti è la roccia sta restando uno è qua 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 davanti a me raga ok buono non ho più l'elmo eh neanch'io eh neanch'io un moto moto da fuori safe mi sa qua 160 dai porco diavolo a compensatore r questo eh esteso rapido r al calcio pesante dimmi dove la dove c'è la smocca voglio provare a giocare col grogno c'è anche la sinistra eh no 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 merini lunghi quelli lì avevano un elmo a posto no scusami non ho armi da lungo no elmo ce l'ho ancora anch'io distrutto c'è uno che c'è la slr eh se vuoi si no ma voglio giocare così dai mi frega si arrivano da sotto mi sa eh allora prova torno lì al drop che avevano buttato giù allora per forza guarda 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 al ping giallo al ping giallo che grossano guarda lì 306 metri in corsa baby 19 in vita raggio chiamacela allora qua già io te lo dico dobbiamo metterci sull'altro lato perché se no sto coso qua incendiato ci fa il culo dopo eh non lo crossiamo più puntiamoci sul lato di qua piuttosto guarda qua questo che crossa venite venite raga venite 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 andate 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 porco tu che male che male no intanto è nascosto dietro andiamo diciamo l'ho messo dietro la casetta sì no ma l'altro gliel'ho fatto 2,92 guarda i soci ma un elmo non c'è in giro ce l'ho distrutto anche io uno di vita oh smocca qua davanti eh il giubo a 70 sì sì voglio arrivarli al coso degli equipaggiamenti che c'avevo il giubo e l'elmo opposto gente davanti all'altro resto dammi un ping stai andando in mezzo stai andando in mezzo ok c'è sopra sopra di te all'altro destra da lì arrivano eccoli audio 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 sento uno sopra di me sta pieno di gente qua no da lontano dietro 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 raga c'è gente qua dentro di te stai andando in mezzo stai andando in mezzo all'altro raga rega da me da me da me da me da me ce ne sta restando da me stessando circondato io avevo pingato di qua però ragazzi cazzo ne ho messo giù 12 poi mi hanno lazerato da quella tua cosa che non guardavano me mentre gli sparavite peccato peccato non male dai prima partita arrivo subito ha detto che si tocca il pipino io volevo dire una cosa ma ci ho pensato è meglio che non la dico perché chiudono il canale anch'io ho pensato a quella oppino hai pensato oppino giusto no no quella che inizia con la b e appunto oppino o con la p o quella bevanda guarda te lo dico sul gruppo cosa ha aperto questo la macchina si adesso c'è questa roba di mclaran ogni tanto escono cazzo ci fa questo con la macchina oh Eh, infatti Quella sta qui, no? Eh, Porzia Eh? Madonna, quant'è merdosa Porzia Viglia anche per il culo No, Porzia Poppi, chiamala con il suo nome, Poppi Perché hai mandato un vocale nel gruppo? Che cosa hai mandato? Non lo so, non volevo ascoltarlo perché Dice che è una cosa bannabile Esatto, non ascoltare il live Era quello che ho capito quando Quello che tu hai detto, Re Al posto del trombino Cos'è, un pompino? Oh, frate, grazie per la condivisione, amore In che senso, Nicolo? Intendevi il fin del cerbiato piccolino? Cosa? Eh, sì, dai, più o meno sì Nooo C'è un botto di gente Sì, scendiamo qua all'inizio, eh Ping giallo proprio Eh? Ping giallo Eh, vanno giù in fondo nell'angolo di là loro Oh, c'è uno davanti a me C'è uno davanti a me qua Davanti a te, Mitch Mi ha distrutto Mi sta pushando Eh, non ho armi Non ho armi, sto arrivando Aiutate, Mitch Non ho armi Eh, non è che ti aiuto È qua, davanti a te, Mitch Va fuori, proprio sotto di me Sì, dentro la casetta l'ho visto entrare, Mitch Io ero arrampicato sul testo Mi lascia Al pompa Spara Sta ricaricando, entra Eh, anche io Ma perché non mi spara? Per quanto ci mette a caricare sta arma di merda, però A me mi ha laggato, raga Gil, è lì dentro nel cosottino One shot Prova il rest Se pusha ti togli Gil, prova il rest Se ti pusha ti togli C'è la granata Gliela tiro dentro Eccolo E' qua da me Su di me, proprio Sei mutato, comunque, Gil Oh Sei mutato, Gil Eh, sì, ragazzi Scusate More, Chef Chef, cazzo Niente Eh, amen Boh, ma puoi rientrare, eh, se viviamo Ah, già, che c'è rivolza qua C'è rivolza Questo stronzo Ne era uno anche sul Anche in fondo arrivava Non li ho visti, eh Sì, sì Anderà a terra Qua davanti a noi, Gil Non ho niente, raga Non ho più colpi Non ho più niente Non ho niente Niente di niente Ma ci sono Ma ci sono Jubial 2 Da me Eh, niente Abbiamo fatto una partita Quella lì di prima Nicolo Ci sono 45 cp No, ma è luttato Qua, raga Ah, sì, ce l'ha sceso C'è gente davanti a me Eh, Ren, non ho colpi Aspetta, dove vai? Sto cercando un'arma Qualcosa Qua c'è un Thompson Con 60 colpi Sì, allora aspetta Ma lo torno a riprendere la Dentro lì Nelle due stanzine UMP Lasciatemi colpi Lasciatemi colpi C'è la gente qua in fondo Micio Pieno di colpi qua da me Dai, mancano solo 6 minuti Davanti, l'hai visto, Cesar? No Sto ora cogliendo il loot Son due Son due Ce n'è una a sinistra Atterra uno Atterra un altro Mi sparano Ancora c'è uno che picca Uno è sopra Uno è sul tetto E' stato molto quello sul tetto Devo curarmi al volo Atterra sul tetto Gli altri due sotto Non me la date le kill Uno mi è arrivato un assist E uno mi è arrivato un kill Eh, ma è andato un knock Quindi ne manca uno Sarà imboscato Visto che c'è la rivalza No, io ho fatto Due nocche Una kill e un assist Quindi il tuo è morto, Cesar Giusto? Sì, sì Nooo, è questo Dov'è? Sta arrivando Sta arrivando eh Deve aiutarmi Curati, sei da solo Gil Sì Io sono a terra Bravo Molto bravo Molto bravo questo Cava esamine Cosa succede, Chef? Ti strozzi? Ti strozzi te al posto mio? L'aria di Milano che mi fa Mi fa bene Sei stato Le settimane al mare A respirare l'aria buona Oh, una kill con 38 di danno Wow L'ho un po' stillata Oh, da beira Ah, puoi decidere Che cosa prende Allora Vogliamo fra quanto Manuel Alacchini Si rende conto Che sta commentando Una live registrata Visto che continuano Ad arrivarmi i messaggi Che sta commentando Ad una live La live di Wharton Di prima? Stava insultando Per chi Dovrei essere più precisi Purtroppo è Facebook E molte volte Anche a me Mi arriva la notifica Di una live finita Come se fosse live In quel momento E se la apro Me la apre Capito? Quindi è un po' Un bug Della piattaforma Secondo me Mi sono sbrodolato Eh, ho visto Nicolo Anche l'Italia Oggi che ha vinto Agli ottavi Tanta roba Tanta roba Tanta roba Gimmi to me Gimmi to me Gimmi to the bucket Gimmi to me Gimmi to me Gimmi to me Gimmi to me Ma avete visto Clara delle vigne Gimmi to me Cara Cara delle vigne Clara Cara Da divine Ecco No Non si pronuncia così Boh Quella lì comunque È diventata una tossicodipendente Clamorosa C'è un video di lei Che deve andare a prendere Un jet privato Ed è in aeroporto Completamente fatta Prendere un jet privato Senza le scarpe Con i calzini In calzini Strafatta proprio Madonna Cacara Cacara Delle vigne Quella con i sopracciglioni Ha fatto anche Suicide Squad La tipa È un'attrice Sì è una modella È un'attrice Vabbè ma Dimmi chi non si fa In quel mondo O hanno problemi Di alcol O di droga Sì ma vabbè Anche Cesa Ce li ama Non è che Gli fanno le foto Immaginavo No ma Cesa È una persona normale Non riesce a farsi troppo Reggerei anche se Mi farei troppo Attenzione Attenzione Parola di drogato No 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 Aia le gambe Ecco vedi È caduto al tetto Volevo fare l'ingresso A pro player Dentro la finestra Sì c'è Non è questo il gioco Non è questo il gioco Ma quella finestra Era quadrata Piccola Cazzo proprio Quella è rettangolare Ci si riesce Dai Dove cazzo sono le Le scale per scendere Beh C'era un team E basta Ma qua Da noi Sì 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 Più o meno Un ping Beh Verso I due palazzi Oh Non avevo visto il vetro L'ho visto quando Sono passato attraverso Anche perché Ti stavo per tirare Scaricare Contro Un colpo di mitragliata Un colpo di mitragliata Attenzione Beppe Che mi andava di mitragliata Direttamente dal futuro Chef Oh minchia Le mosche Sto cazzo di gioco Sono troppo realistiche Le senti proprio Di fianco all'orecchio Quando gli passi vicino C'è un M4 qua Lo vuoi Ce l'ho già Grazie Ciao Giambi Io io Di fianco a te Ma non ho capito Ma matta Alla fine Hai detto che non veniva Sì Ti devi arrendere A giocare con loro due Gil Cioè Basta Ma boh Perché se no Ci possiamo anche alternare Non è che Ok Non vuoi giocare con me Gil Grazie Dillo Cioè Dillo 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 Sì Sei una merda Non voglio giocare con te Sei scarso come una scoreggia In cielo Una scoreggia in cielo Cioè Non lo so Che Non lo so Star via un mese Ti ha fatto perdere Un po' L'uso della parola Mi sa A furia di star lì a parlare Con una canna da pesca Beh non è che parlassi con gli altri Parlava con i pesci Parlava Povero Povero chef Povero chef Ma hai preso qualcosa di rilevante Qualcun bel pesce grosso Eh Sì ma non ti dice dove Io ho raccolto un sacco di roba inutile Mi dica alla fine non ti risponde Non hai pescato un cazzo chef Abbiamo capito che sei una mezza sega a pescare Ho preso poca roba I baganelli No che volevo andare a pescare in barca Ma non sono riuscito Quando mi organizzavo figa C'era sempre mare mosso Vabbè da lì ho preso un po' di orate Orate Ah sono buone l'orate Madonna che sono buone Sono grigliate Cazzo non sapevo che per un figlio avrei dovuto chiedere un prestito Solo il trio 1600 euro Che cos'è il trio? Eh il passeggino Culla e stancazzo C'erriverai anche tu Quello che metti in macchina Cioè questi Jumpy fa i bambini e poi si lamenta Eh Jumpy cioè L'hai voluto il trombone Hai voluto risparmiare quei due euro per il preservativo Ma sono cazzo i tuoi Adesso ne spendi un po' di più Eh no ho un milino da lungo Ho vinto un milino da lungo Oh Eh c'era un milino per essere in questo caso qua Ma chi è che spara così? No Ho finalmente trovato un medikit Posso curarmi Chi è? L'ho messo giù Ma dove? Ma con di ACP Ma non so Un esteso Mitra magari Io non lo grafico Quali due palazzoni Tu dice Ma son bot Ma son bot Ma perché non i pink Bastardo Vuole farsi giù Va bene Lascia andiamo a rubargli Va bene raga Dai andiamo a cercare la gente Mi sono già cagato il cazzo Eh capito Arriviamo vicini Dai andiamoci Audio Arriviamo in mezzo Se era rank Tirava il freno a mano Si girava Scendeva in mezzo alla strada Sì ma Che personalità Ventola Oh frate Grazie per la condivisione Amore Mi cazzo sta ragione Perché siamo in mezzo alla strada Un veicolo Dobbiamo trovare raga Cesa Occa la granata No dai veramente Dai vigliacco Ma l'ha tirata davvero L'ha tirata davvero Sì sì l'ho visto all'ultimo L'ho visto Dove No Tira le granate E' tutta verde Ma hai non capito Non è un bot Non è un bot Ma c'è gente qua nel palazzo A fianco a me C'è tutto legno C'è gente Sì sì In due Un'attro Uno si sta avvicinando E da te agili E qua davanti E qua davanti C'è Ando Ando C'è Terra uno C'è uno Ah è dalla porta Si è devastato dalla porta C'è uno Terreno in due qua dietro È morto subito Sì No ne manca uno Sta salendo Ma dov'è È da me One shot A terra Fatto Questo qualcuno Ho connoccato io Ah no no Eh sì esatto Craccato Craccato è un paio di cazzi Gli ho dato un bel foglio Craccato poi Craccato Figa È venuto a dire Craccato Era craccato Cioè si è fatto un crack C'è È venuto a dire craccato C'è chef No è cesa che non ammazza un cazzo di me Mai neanche a pagamento Poi 16 volte C'è C'è L'ho inseguito Ho visto oggi Era un inseguimento Ma io non ci credo che sta perdendo ancora 2 a 1 2 a 1 Stava finendo Vediamo che minuto Sono 84 Segna Segna Tempo scaduto Per la pareggia Sono d'accordo con lei Jumpy Mario buonasera a tutti Damia Buonasera Buonasera Allegri da cacciare Risca grossissimo Anche se la pareggia Risca grossissimo Ma io Io l'avrei già cacciato Dopo le dichiarazioni Che aveva fatto Con la sconfitta Con il Paris Saint Germain Che dice che non era una partita Dove dovevamo puntare a vincere Cioè Già lì lo cacci Non è una mentalità Da squadra vincente Sarà Juve Porco 2 Non sei il Chievo Esatto Cioè Fino a Tre anni fa Erano in finale di Champions League Porco 2 Ma devi staffare Neanche due anni fa Forse Ma appena ci riusciamo a entrare Adesso Cioè Capito Con portapira integrato Pienamente d'accordo Giampi Pienamente d'accordo Con il sesto punto era meglio Pirlo Vedi Compirlo almeno Un po' di calcio Di quel gioco Anche se vedevano Magari vinceva Perdeva Non riusciva a avere costanza Nei risultati Però Però è un allenatore Giove Esatto Dovevi crederci Puntarsi un po' di più Cazzo Allegri Con la carriera che ha fatto Non dovrebbe essere Così Oh no Strapieno di nuovo No Solo un team Che in realtà sono due Perché ce n'è uno di là anche Andiamo nell'angolino nostro Dai Vai Loro sono tutti a capannone Zona centrale Sono morto Non ho un'arma Ok Trovata Raduniamoci Sta qua davanti una Sì Tutta la lettera a destra Visto? Venite con me di qua? Perché saranno acamperati Come da me Ma ne sento uno qua dietro Io Qua dietro da me? L'ho fatto questo qua dietro? Uno crackato C'è uno sdistrutto Qua davanti Ah sei tu Giove Non mi era comparso il nome Perdonami Il dietro le casse nel mezzo E uno nel labbro Sono due Sono due Dove? 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 Proverete il giro Nel mezzo Uno nel mezzo E uno a destra Fagli il giro Bravo Ragazzi C'è uno col pompa da qua Il ping arancio Proprio il ping arancio Vai 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 ci siamo Sto arrivando Mi ha rotto tutto Lì nascosto Terra fatto Morto subito Sì si è morto Si è morto Si è mirata la kill Di quello noccato Non me la si Quindi in teoria era un team qua Dovremmo averlo fatto tutto In teoria Vabbè ok Capito perché l'abbiamo fatto Perché? Ci erano rimasti due colpi Non ci avevi colpi Per caettarci tutti in ogni caso Eh ma l'avevo già colpito Un po' di volte Un po' di volte Oh Avete sentito Sto sparo qua? Sì Da dietro No No Raga c'è uno sul tetto Non ci credo Non ci credo È quello che è sceso da solo Venite su Aspetta acceso Aspetta acceso Che vengo con te Ok Grande Sei fortissimo Sì è nel mezzo Più o meno Stava Visto? Fatto Grazie Bravo bravo Vado a arrestare la chef Subito Era one versus quote Questo Era forte Forte Camperato sul tetto Eh ma è sceso da solo di là Quello lì Era quello che dicevo Che era singolo Infatti quando vedi singoli C'è sempre da avere paura Porco due raga Infatti scendono Per camperarsela sul tetto Pagliaccio Io ho mezzo Macchina Eh ha una mezza cura Tieni Tieni T'ho lasciato due Medikit T'ho lasciato anche tre bevande Sei fermato eh È un buggy È un buggy Sto risalendo sul tetto Forse era anche solo eh No 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 Due 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 Lui vi stieranno in due Raga dovete darmi una mano Sono morto Ce l'hai le spalle Cesa ce l'hai le spalle Te lo faccio io questo qua Te lo faccio io Quello le spalle è fatto Buon dio Spero che abbiamo Entra un altro Lato a destra Mi sembra Qua dentro Ma l'ha fatto L'ho fatto L'ho fatto questo L'ho fatto ceso Qualcuno ha gli acp Ho finito gli acp io Però va nel mio cadavere Pieno Dove cazzo sta Adesso provo un attimo Vedere lui Se aveva qualcosa No Preferisco il verticale Qui c'è un compensatore mitra C'è qualcuno No io sono fullato Mi serve solo una punta Per il M24 Più meno da Ren Sono morto là Mezzo là Sì Quello Me l'incrocio Qua Qua davanti Qua Zaino al 3 Impugnatura verticale Steso rapido a R Io ho 50 colpi Ecco Questa forza E qua da me Qua da me Qua da me C'è acceso Pieno di acp Qualcosa 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 Posto Un per 4 Qua su Ah ce l'ho Grazie No Jumpy Lo zaino al 3 lo piglio Devo far pulizzo Devo far pulizzo Lasciato un per 4 Ah da noi è 3-4 giorni Che la sera fa 20 gradi 19 gradi Ieri sera Sono uscito a cena Per il compleanno Sono andato Con i pantaloni lunghi Figa Ieri sera Sono partito Con 36 gradi Salta su Quanto ti manca Te Gil Gil Mi sentite Mi sentite Si 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 No 3-2 per la Juve Ma come 3-2 per la Juve Negli ultimi 6 minuti Ponte Ponte Mi sa che c'è gente sul ponte Si ponte l'ho visto Aspettate a sparare Solo kill sicure Raga Guarda la sinistra 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 Al sasso Ce n'è uno dietro al sasso ancora A terra E hanno stillato No ma ragazzi Ma Al 90 più 3 Al 90 più 4 Due gol Occhio da sasso grosso A 2-90 Non riesco a pigliarlo Non riesco a prendermi in coltima Mi nick secondo Giallo Eh c'è un SKS C'è una buona mira Oh non li entra Eh ma boh mi sparano in due Però Mi ho sparato anche un'altra Curati al volle Che dobbiamo andare Siamo fottuti Andiamo via Andiamo via Prendi la macchina amici Andiamo via Saltate su Saltate su Saltate su Vai Ce l'ha sgranato pure Quasi sono bravi Dobbiamo affrontarli In quattro Ciao raga Ci sei chef È agile C'è una macchina davanti a me No Vai Tranquillo Salite su Guardate la mia moto Andiamo Andiamo Oh Andiamo Audio 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 story Hanno o O O V O Ho finito la benzina, ho finito la benzina Vai vai, siamo dietro Ancora abbiamo metà salbatoio Madonna, due acchile, raga Vabbè, vuoi salire o...? No, 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 freniamoci qua, airport, a piedi Scendi, chef, fatti un giro in macchina Occhio No ragazzi, io scendo dove, dovete mettere un punto Qua da noi, qua da noi Ti ho messo il punto, punto a sgredire la ragione Qua è uno l'ultimo Ugo, giù po' il 30 Un po' ti acceptero Arriva un buggy C'è gente lì Uno a piedi e un altro Aspetta, aspetta, aspetta Ok Non arrivano 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 uno a terra con la granata ne ho un altro davanti uno era dietro l'angolino proprio chifosissimo tu hai la zb bro uno sei steso non l'ho vista ho ammazzato uno con la granata zb a me servono le questo è pieno di 556 ci servono le 5 anche a me un po' che qua 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 vieni qua c'è anche l'esteso in stazione rapida R questo cadavere ande ne ho un po' troppo questo va bene design al 2 gil se ti serve questo va bene no c'era il 3 questo qua ok c'è un compensatore mamma mia spam per salvetti raga 2500 stelle 2 a 2 la juventus come 2 a 2? 3 a 2 gol annullato 2 a 2 è finita gol annullato? si hanno espulso milic quadrado fazio allegri e c'è cos'è successo alla fine ha il soltato per il gol e ho letto secondo giallo l'espulsione perché ha festeggiato troppo per il gol del 3 a 2 quindi dopo gliel'hanno annullato c'è vabbè sto senza parole io raga solo in Italia solo in Italia ma in Italia succede una cosa assurda ma c'è un per se in giro da qualche parte qualche cadavere ma ormai ti va bene il per 4 perché come la mappa ceffalo venite salite in macchina andiamo arrivo come sta tutto umbriaco salvetti porco 2 prendila prendila su allora chef sali con cesa andiamo al ping giallo tranquillo tranquillo ti ricorda che sono adappati i freni ce li ho saldi hai sentito sparare lì davanti 34 vivi ancora c'è gente sinistra dalla collina 160 no ma qua c'è una macchina parcheggiata raga due macchine parcheggiate tre macchine sono di fronte si hanno lasciato giù la macchina e si sono spostati a piedi evidentemente si si le case sono lì qua guardia 160 oh qua raga 4 cadaveri qua dentro ma che cazzo ma che roba qua uno ha tirato una di quelle granate ragazzi ha fatto vigni e aveva visto arrivare le 4 macchine guarda qua guarda qua dentro raga ma non è legale sta situazione lì dentro no vabbè no però aspetta prendete prendete un 2 smoke eh io ne ho io ho una smoke perchè ho 5 granate ve ne lascio 2 ve ne lascio 3 granate ok trovate adesso guarda ma che ha fatto tutto sto genocidio qua dove è andato guarda che prendo una smoke dove è lancia la in fondo si si anche da dietro anche da dietro guarda che li trossano si mi controlliamo ma che non ci arrivi qualcuno io sento sparare da sinistra tipo da 130 mi piace il lato di qua aperto no il lato di qua fa un po' caccare eh 80 130 però dai dobbiamo stare qua allora dove abbiamo fightato col team con i team prima ci sono due team che si fightano io aspetterei un attimo 25 no no ma dico ci arrivano anche da dietro quindi occhio dici eh si si stavano sparando alla città la dove eravamo noi prima raga che sono praticamente là 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 dentro là dentro là pinga 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 arancio pinga arancio ah ok eh ho il cespuglio non ho sparato non ho sparato colpito attraverso il cespuglio quindi non mi ha visto sparare si l'ho visto anche io tra quello si è spuso da destra si è spuso da destra si arriva un tuk tuk dietro arriva un tuk tuk si 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 sono lì nel casotto pinga arancio eh in tutti e due i casotti sono tra il giallo e l'arancio tu c'è arrivano raga macchina tuk tuk palo dici che ci viene alle spalle tuk tuk si ma c'è anche una macchina dietro c'è anche una macchina più in fondo ci sono i cadaveri con tutte le giubbotte ed elmi ah ma devono venire da noi questi raga si 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 tre qua che corrono in open oh qua il sasso davanti a noi colpiti un paio di volte ah il sasso qua vicino ah il sasso qua vicino qua 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 il sasso arancio mi sto curando ce la fate lì ah il sasso lì arancio si 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 non lo vedo io eh preso vado a prendere la posizione sua uno sta arrivando alla casetta ai mattoni si si lo vedo da me da me da me un altro alla fermata cesa ce n'è uno sinistra eh venito cesa si si no ma c'erano in due sono l'ho fatto quello che ha sparato cesa c'era un altro qua eh uno qua ren raga mi pushano bisogna di attrezzare bisogna di attrezzare vieni dietro vieni dietro vieni dietro vieni dietro vieni dietro devono venir con la safe devono venir con la safe E ho provato a salvo accese io, raga. Ne diamo ancora uno, la regna, di quel gruppo, là. Due, 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 due. E' qua il reak nella siepe. È certo. Aspetta, 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 non sei recuperabile. In dietro al sasso sono sei. Moccami. No, 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 ti sta puntando. E' proprio davanti di te. Sta plancando. Sta plancando, regna. Ci vediamo qua dietro, punto arancione, regna. Eh, ne ho fatti due, io qua fuori, dammi un attimo. Mi ha stunnato, mi ha stunnato. Sta entrando uno. Probabile. Dov'è? E' qua fuori. Qua dietro. Sì, è morto. Arriva. Arriva. L'ho fatto. Andiamo alla macchina. C'è anche da lontano, colline che risparmi. Ne abbiamo uno anche qua, la casa tipo occhio. Quale casa? Qua a sinistra? Sì. Questi giubbi? Ok. Qua c'è un giubbo al cinquanta tipo. Cinquanta e due. Ok. dobbiamo decidere cosa fare eh. Se sta... A piedi, a piedi, tutto di qua dobbiamo passare. Ma c'è un tizio qua dentro, mi sa. Bussati al massimo. I cani ma non sbagliano un colpo questi pezzi di merda oh. Sta pazzeschio. Dov'è salire così. Che cazzo non lo so. Vado lontano. Provo a salire per lì. Eh si, conviene un pelo prendere. Ecco, ho sbagliato nell'erba L'ho colpito, l'ho colpito Guardalo Lì, 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 lì Tira una smoker S Veloce, stanno arrivando due macchine Dai, che merda, che merda, che merda L'ho ferito, ma non è altro Non è neanche sparato, no? Muoio con la safe Porco due Deve essere un pelo più veloce, G, il cazzo Lì davanti, ti visti, no? Fai tutto, flunk è tutto da sinistro Guarda questi Guarda questi, guarda questi Eh, questi qua sono presi una dica le safe Vado a prendere la macchina Forse a spostarci Comunque quello che dava adesso Ho livello 60, eh Questa penso sia stata una delle parti più belle Che abbia mai giocato Vedi però quando te la giochi bene Che arrivi in endgame Quanto cazzo è bello l'endgame di sto gioco, raga Io ve lo giuro, l'endgame di questo gioco qua Non ha uguali C'è, c'è proprio È proprio, diventa proprio una partita a scacchi praticamente Sì, 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 sì Chi azzecca ha la posizione Diciamo che Non devi fare Ma adesso queste qua che ti hanno fatto Girca per una posizione 60, 60 e 63 Erano in safe Fermano in una posizione Sempre in una posizione Cioè, quindi anche se non sono problemi In una posizione Infatti, dove non arrivi in abilità In sto gioco Devi arrivarci di Per quello ha detto Cioè Anche quello che era in singolo là Io l'ho fatto perché l'ho visto Ho aspettato che piccasse da un'altra parte L'ho fatto Se no quello lì In uno contro uno Ci ammazzava tutti, raga Ah, sì Quello sul testo Sì, eh Era bravo quello lì Arrivo subito Invece vedi a COD Qui anche se vi la safe Quando non sei bravo Può incularti uno che C'ha più skill C'ha più move Tu una si gira Eh sì, sì Già solo basta che uno pinga 20 e tu pinghi 60 E tranquillo Raga, balletto Venite da me Balletto nuovo Balletto nuovo Eh, basta Queste macchie Oh, madonna Quanta violenza È violenza È violenza questo, eh Lo fa chef come un violentissimo Vale Ti voglio che di prendere una patta Questo balletto Ahia Oh, migliacco di merda Ma che cazzo è quel robo Ah, il box dove fai scendere la macchina Oh, ma bella la macchina di questo qua Oh Oh, ma che lavoro fai per fermeterti quella macchina Ciao, se farà Vai glielo a dire Sono il calciatore Sono la ragazza di un calciatore Ah Cioè, assurdo, ne? La Juve aveva pure sbagliato il rigore con Bonucci Ha segnato su ribattuta Incredibile Incredibile Mi allegri non mangia il panettone Mi allegri non mangia il panettone Come noi appuccini Non mangiamo nemmeno una nocciolina Non demordere, Jill Credi nel team Allora, CTRL, SHIELD, QX, metto l'A-Bot Sì, un altro tasto Non so se sei in grado di premere tutti insieme No, lo attivo prima di giocare Adesso aspetta Chiedo a piedi Piedi? Come devo fare per mettere l'A-Bot? Chiedo a piedi Ciao Giovanni Potremmo fare una partita Per farci bannare Con gli e-ball Due team Sì, dovrebbero scendere su Più o meno qua Li vedo più bassi Indietro Indietro nel pico Bastardo Oh, ma cosa ho fatto a casa mia? Eh sì, casa tua C'ero io Ti sei appropriato di casa mia Oh, oh Ehi, lei Ce ne vado da casa mia Ma lasciami i colpi Oh, guarda UMP Il compensatore mitra Che benessere Entra in casa mia Mi ruba le mie cose E si vanta pure Ma tu l'hai lasciato qua l'UMP No, non c'era ancora arrivato È diverso Lei è entrato No, c'è un altro qua Ti sei passato sopra Rimarrite Ti dà pure del leio Incredibile È la droga, è la droga Ma il culo Il casco Ho andato a prendere il casco Ma il culo Il casco Il cazzo è tuo Il pari Allora ti inculio i colpi Delle MP Bambini Adesso ti inculio i colpi Nel MP che non hai visto Vai vai Ti ho già preso No Ma infatti Ma perché me ne hai raccolti solo 6 Ma perché me ne hai raccolti solo 6 Sto gioco di merda Io sto gioco di merda Guarda Adesso esco Mi laserano C'ho 7 colpi Nel MP Mi hai rubato il casco Basta Ma la gioco col Vector Ho capito Vabbè Dice poco Allora venga raccogliami Quei 6 colpi Che lascia Fino all'ultimo No abbiamo fatto 4 più 11 erano per terra L'Italia ha vinto Ma cosa ha vinto Ah quella femminile No Maschile Di pallavolo E non ce l'ho neanche io Niente Deve venire in casa mia Uno stai No più che altro Ragazzo Abbiamo fatto la partita Prima Appena finita Molto bella Mondiale di pallavolo Sì sì Mi ricordavo che erano In finale No non è vero A me piace anche giocarla Porta aperte Non ho un mirino io Raga C'era un per 4 io Porta aperta anche qua Madonna Tirato un C4 Al pink giallo Sì sì Ma sono tutti qua davanti Non ho mirino Anch'io Cazzo Io Ho pingato un per 4 io Io continuo a raccogliere Medikit Cioè ne avevo 7 Ne ho lasciati 3 Adesso sto continuando A raccogliere Il mio cervello è Sono 8 adesso No inizia a piovere Raga Minchia pensavo di avere Le formiche in testa Ho trovato un laser In più? Sì Allora vengo Ok Ho visto attraversare la strada Stanno a non diverso la chiesa Ho visto Ho un mirino corto Quanta roba Sei ricco? Ne ho visto Ho visto un mirino corto Devevanza? No Mi ha condito il mio Così aggressivamente Così aggressivamente Madonna C'è Sono andato in terronia Ho smesso di parlare 1x2 4 non è uguale Occhio perché qua davanti E' aperta Da dove? Che fate? Dove è cesa l'altro? Cesa sei mutato Gli ho fatti tutte e due Gli ho fatti tutte e due Gli ho fatti tutte e due Subito Wow Quando fai così cesa Mi fai eccitare È un perotto questo Arriva a 0-5 Ecco queste due partite Prima tre Adesso già ne ho due Di kill Ce l'hanno un M4 questi? Sì Da me Perfetto Oh è 9mm Lasciatemi Cosa cambia dal calcio tattico Al calcio pesante? Non lo so ma mi lasci quello pesante No Ho lasciato qua sul cadavere da me Hai lasciato quello pesante Io voglio quello leggero Ah no Quello leggero ce l'ho montato Per quello ho detto Lascio un compensatore mitra anche? Però Ok c'era il team alla chiesa hai detto Ho visto qualcuno andare là Sì erano due team Quello è sicuro Io ho una marea di bevande Vi servono? No No Per una volta no Sette anti e quindici bevande Vorrei un casco al due Perché me l'ha rubato cesa Mi è servito Cesa ormai non puoi più dire niente Sette chef perché nelle gerarchie ti ha scavalcato Adesso l'ho ammazzo Adesso l'ho ammazzo proprio di cattiveria Grazie chef E niente è cesa Niente Però è una morte onorevole con un c4 No no Hai visto dai adesso riesco anche a scappare dalle granate Se mi avvisano che me le hanno lanciate Adesso lancio una in chiesa Così a brullo Io non entro Odio le chiese Devi prendere fuoco io Hai capito Saranno andati qua davanti eh Negli edifici qua davanti Sì aperto qua davanti Sì l'ho visto Casa Casa qua davanti a me Uno sul buggy Due Tre Non ho un'arma da lungo io Allora due sono lì Due sono le capannone Vai uomo Dai con ste stelle Ci sono dei berri in la chiesa Vi ci hanno anche visto Oh tetto 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 alto a destra Tetto alto lì Fing arancio Io vado Il capannone è pulito quindi No 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 ce n'è uno il capannone appena entri a destra Venite con me Ti confermo subito lo stad Guarda Madonna che come l'ho Pegato Non lo vedo più quello su tetto alto Stiamo così facciamo Insinno è ancora lì Ho sbagliato Ficca che te lo picchi in testa Qua sono il mio due Qua è occhio Che sta aspettando Che affacciate Ma io voglio solo un SKS ma mi sa che non c'è M'ho tirato lì una cazzo di molotov Uno è sotto basso merda Però Chef mi vedi te la molotov Guardali Servetti Con le 5.925 No Sembra mi ha fatto partire il party con le 50 Grazie Sembra per le 50 Sono dentro la casa Uno è sul tetto Uno è sul tetto e uno è sotto Guarda la carta Schim blu sopra Guarda che riesce a luttare il mio cadavere lì è Vai uomo Dai con se stelle C'è anche lo zaino al 3 Sefor al 350 150 per sefora Uno vi flanca da sinistra Sì Sì Giù Sto curando Vai uomo Dai con se stelle Vai uomo Dai con se stelle vai uomo dai con ste stelle vai uomo dai con ste stelle salvetti sei fottutamente pericoloso salvetti vai uomo dai con ste stelle vai uomo dai con ste stelle vai uomo dai con ste stelle ma cosa sta succedendo qua regà vai uomo dai con ste stelle 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 dai con ste stelle vai uomo dai con ste stelle c'è salvetti moreno giovanni sefora ma che cazzo ma siete pazziti l'uomo dai con ste stelle vai uomo dai con ste stelle vai uomo dai con ste stelle guarda suona tutti che corrono alla macchina e adesso va a rivedere la posizione di Borussia al momento del colpo di testa sempre a mezzo, fino avanti vediamo cosa ci può dire per di gara fuori gioco fuori gioco salvetti, altre stelle salvetti è completamente matto è un drogato dai con queste stelle minchia salvetti ma cosa sta facendo 5, 2.000, altre 500, altre 2.000 ha mandato 1.450, 500, 500 500, 500 5.000 5.925 sai che, sai come sta facendo, come il magico è entrato e fa su un ubriaco ah sì, uguale, allora ok pensa se escono insieme una sera, che combino clamoroso arrivano, si entrano una sera, lui e il magico in un locale e dicono, eh, stasera ci ubri a capo ma finiscono per comprare il locale, poi quanto costa? ne so, 20 euro lo scondiremo, no, 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 locale, quanto costa? quanto vuoi? la Bruce Wayne no, no, vai via adesso lavori per me, vattene vai via tu oh, UMP niente, rega, mi tocca abbatte Jill, luttare, poi arrestarlo non ci sono altre soluzioni dai, cazzo ho lo fuori io ho provato, ma purtroppo non ci sono altre soluzioni dove sei Jill? è impazzito, Salvetti sai che sta arrivando a me? e il bello è che volevo dire, bisogna puntare sulle sabra, ragazzi cioè, niente va bene così c'è un, dico un cazzo non mi lamento no, no, dai, no, no non mi lamento ti volevo dire, non ti va mai bene niente, però no, 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 per amore del cielo chiesa, cosa fai con la mia casa? non mi lamento, non mi lamento ci sarà tempo e modo per fare quelle stelle e le quelle sab domani puntiamo a farle domani me lo sento, domani le facciamo uh, bello SLR però quasi quasi facciamo così lasciato un UMP io qua c'è il DP, il DP28 mega mitraglione ho lasciato un UMP qua con un esteso rapido un coprifiamma e i colpi pingalo colpi, colpi, colpi e vedi sono 100 i colpi lutto anche pingarlo ma quando arrivi non trovi niente maledetto guarda Jill incredibile Jill ha scrossato anche le pareti no, ma Jill guarda quando lutta Jill è il tipo Attila non cresce più l'erba mi serve un laser? si, si, si ma c'era gente qua comunque io no ho il pallone di salvataggio andiamo dove vogliamo lascia tutto qua sceffolo guarda mi sta proprio sul cazzo l'orlografico vado a finire la bottiglia di monta al bancone e torno ma io 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 voglio voglio conoscere Salvetti deve diventare il mio nuovo migliore amico io voglio andare a pescare con lui deve diventare il mio migliore il mio migliore amico deve diventare Salvetti lo giuro raga stanno nei soliti casoni senza sparar di là 4 me lo piglio pare che se vado a bere con Salvetti mi sa che ce li troviamo tipo in Zimbabwee nudi attaccati a un palo wow con 4 mucche morte accanto 2 pecore non so quanto vi convenga allora andare in Zimbabwe andare a bere insieme porta aperta qua anche da me qua è aperta che cosa puoi porzi dimmi ti devo mandare la la foto de eh insomma quello che pensavo non volevo dire col fiocco vabbè ti mando la foto col fiocco però devo trovare un fiocco piccolo che sennò copre tutto qua non c'è più niente da vedere poi ok visti 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 dove? alla casa quale casa? gioco punto verde ok a posto tipo 68 14 case si no è quello è questo camperato in casa sapevo io questi qua stanno camperati dentro in casa siamo lontani siamo noi chef però l'ho mancato cazzo eh siete troppo lontani però sech io sapevo che andava a finire così sta partita lo sapevo eh ho capito ma fino a quando siamo qua da noi cesà lo sapevo cesà è entrato è entrato hai tirato una smoke aspetta vieni nella smoke vieni nella smoke vai resta sono qua accanto te non ti vedo chef c'è uno qua dietro c'era uno restando mi è arrivato il tipo è entrato in casa è entrato in casa vai a pushare ha chiuso sta restando che scena imbarazzante che scena imbarazzante quella che ho appena visto ho smirato qualunque colpo ma è solo terratto c'è un altro e niente mi sa che ci rivediamo domani ne ho dovuto ordinare perché mi hanno anticipato sti assettati di merda statemi bene amici ciao salvetti grazie mille vedete che cazzo è successo che criminale che sei no No Insomma era passato un minuto e mezzo È stato rivisto al VAR Avete sentito il parere di Marelli Avete visto la decisione dell'arbitro Giudicata punibile dal direttore di gara Con il VAR la posizione di Borunci Che vedete Questa è la linea Ma questo è l'aspetto ovviamente geografico Che è quello diciamo meno rilevante della questione Per arrivare il momento di Chionber Al centesimo Esce il numero 11 Entra anche Zambia Martina che sembra non voler finire mai Eccolo qua Secondo cambio che sta per essere ufficializzato In questo slot Fuori Milena Fuori Milena Dunque Salernitana Che ha ritrovato il risultato di parità Dopo la segnalazione Da parte del VAR Centesimo minuto Erano 4 vedete Teoricamente io di recupero Ma è successo di tutto E adesso con i cartellini rossi È possibile che si giochi ancora per un minuto Con qualcosa del genere Vedremo Ovviamente Da non perdere in post partita Sander X-Querpo Marco Cattani e i suoi ospiti Occhio Ma raga ma è successo di tutto Finisce 2 a 2 Una partita pazza Una partita che la Salernitana Ma mi interessa E ci sono 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 Senza Senza influenzarti Ho visto Ho visto visto Michele Espursi Millic Quadrado E Allegri In 30 secondi L'Italia è forte In tutti gli sport Tranne che nel calcio Nell'ultimo periodo Scuola a calcio Ha perso Ma danno un premio Squab G Per chi fa quei record Guarda chef Sei vergognoso Due titani No formula 1 Non esistiamo proprio Agile Non lo senti No Non ci sono Due No Solo uno Sì Andiamo qua sinistro Fa il ping No no Due team Due team Scendono Alle case Davanti No